Il nuovissimo SPZ Merch è finalmente uscito Andate su FedericoSPZGames.it per essere i primi ad acquistare la nuovissima collezione Oggi vi mostrerò un avatar veramente assurdo Che ragazzi se ce l'avete dovete assolutamente cambiarlo Perché potreste essere bannati dal gioco per sempre Ma prima di iniziare questo video lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Vi ricordo anche di seguirmi su Roblox Schiacciando i tre puntini in alta destra E unirvi al mio gruppo SPZ Squad Dove potete trovare nella sezione negozio ogni settimana tantissime nuove magliette Se invece volete la mia amicizia su Roblox O se volete semplicemente giocare con me Andate a dare un'occhiata agli abbonamenti vicino al bottoncino iscriviti Altro video di Brokeven Raga ho deciso ve lo dico già Perché poi sono sicuro che qualcuno si lamenta Ho deciso di portare un po' più di video su Brokeven Ve lo anticipo già Spiegherò anche in live la motivazione per cui ho deciso di fare questa cosa Vi anticipo già che nei prossimi giorni vedrete un po' di video di Brokeven Comunque in ogni modo tranquilli Se mi guardate per i video di Adopt Me usciranno lo stesso Solamente un po' di meno In ogni modo parliamo del video di oggi E raga oggi andremo a vedere una skin assurda Che se ce l'avete vi giuro che potreste essere banati Almeno vi giuro non lo so perché ancora non l'ho testato Poi dopo questo video andrò anche a realizzarci uno shorts Quindi non so se siete qui perché avete visto lo shorts Se siete qui perché non lo so veramente Comunque non so ancora se funziona perché questo video è il primo che faccio effettivo su questo avatar Ma ho sentito ho visto in giro da altri Contrain Creator che c'è un avatar che ti fa bannare E voi direte ma qual è questa avatar Allora se andiamo su Roblox Più nello specifico nel marketplace raga sempre qui sempre nel marketplace Adorato marketplace che era da un po' che non lo portavo Quindi secondo me alcuni scusate il cappuccio raga lo so Mi sento soffocare con questo cappuccio Ma ultimamente non mi chiedete perché Non ho voglia di non di registrare video Quella ho sempre voglia Ma non ho voglia di prepararmi per i video E raga questa cosa è veramente assurda Non so che mi prende E tra l'altro forse perché comincia a fare più caldo Vabbè comunque dico se Già adesso che non fa così caldo Non ho voglia di registrare non posso immaginare quest'estate Ma vabbè Stavo guardando qui se nel marketplace c'è l'oggetto in questione L'oggetto no che ci farà bannare dal gioco Ma non lo vedo qui momentaneamente No ce n'è uno simile Ma non è questo Non c'è non c'è Quindi facciamo una cosa Proviamo a vedere se invece Non mi ricordo manco più Come si fa ad utilizzare il marketplace Però dovrebbe essere charters Charters Raga sono delle parole in inglese che non riesco a pronunciare Charters E una di queste vi giuro Veramente difficilissima E allora andiamo sotto 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 Vediamo se c'è Secondo me ci dovrebbe essere comunque da qualche parte No 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 Non c'è Vabbè Allora mi sembra di non vederla Ce ne sono tanti simili Magari quelli non vi fanno bannare dal gioco Però raga Sono sicuro che Eccola raga L'ho trovata L'ho trovata Lo sapevo che c'era nel marketplace Perché di solito Quando ci sono queste skin Che hanno dei problemi Che possono essere bannate Che hanno delle varie cose In genere Si trovano nella prima pagina Del marketplace E voi direte perché Perché tanta gente la compra Per provare Come potete vedere Tutte le skin A mannaggia Roblox Costano 175 Robux O Minimo Massimo 200 250 400 Però diciamo che Minimo Sono 165 Bei tempi Se mi seguivate L'estate scorsa Dove Le skin costavano Un Robux E voi comunque vi lamentavate E voi vi lamentavate Devo fare questo appunto Perché tanti voi diciamo Fede non è gratis Ma è un Robux Raga un Robux è gratis Un Robux Dai veramente Ho fatto mille video Dove fare un sacco di Robux gratis Ve li lascio qui da qualche parte In ogni modo Brutti Cioè bei tempi E adesso brutti tempi Perché Siamo in un periodo orribile Dove le skin costano 175 Mannaggia Roblox Che vuole sempre i nostri soldi In ogni modo La skin in questione È questa qua Che si chiama SCP 096 Come potete vedere Spero che voi lo vediate È molto creepy raga È veramente una cosa super paurosa È altissima È veramente strana E Boh Non so neanche che pensare Cioè Spero che la vedete bene Non so come si zooma con Windows Non so se lo sapete Ma di recente ho cambiato PC E io Non lo so utilizzare Non so nemmeno come Cioè si lo so utilizzare Ma sto imparando E non so come si fa a zoomare In ogni modo Questa è la skin È raga Veramente strana Ovviamente Indovinate un po' Chi spenderà 165 Robux Per provare questa roba Per voi Io Raga ovviamente io Quindi adesso devo andare a comprare Questa schifezza Non andrò mai a utilizzarla È veramente orribile Ma la compro per voi raga Vi giuro che la compro per voi Allora facciamo buy Bye bye Robux Altro che buy Bye bye Robux In ogni modo Continua Abbiamo acquistato Questo brobrio E adesso Dobbiamo Andarlo a mettere Prima di tutto Dobbiamo andare nel nostro avatar Raga Praticamente A mettere sta roba Che non so neanche dove sia Chart Chart Raga non lo so pronunciare Comunque personaggi In italiano Allora l'abbiamo comprata Dove sta? Dove sta? Ce l'abbiamo appena comprata Vedete? Non ho più Robux Però non lo vedo qua Accessori Head Ah forse dobbiamo proprio Metterla uno a uno Potrebbe essere Però io qua Raga Sapete che non lo vedo Skin tone No Classic head Ma dove cavolo è? Ok Allora abbiamo L'SCP torso Ce l'abbiamo L'ho visto Che è veramente assurdo Ok Left E questa Poi abbiamo Right arms Che è l'altra Quindi va bene E che non riesco a trovare la testa Ma troveremo anche quella Ne sono sicuro Ok Ok Cioè guardate che Figaggine di Skin raga Una cosa bellissima Allora Andiamo a vedere sta testa Il problema è la testa Cioè non so qual Dove sia la testa Head Ma io non vedo la head Qua No perché Questi qua sono accessori Per la testa Però neanche i neds Lo vedevo Ah no eccola Boh raga prima non c'era Vi giuro O sono ubriaco io Non me ne sono accorto Comunque in ogni modo Abbiamo preso questo Adesso dobbiamo andare a togliere Tutte le robe Cioè i capelli Dobbiamo andare a togliere Il cappello Il core blocks Tutte queste cose qua Che intralciano Il nostro personaggio Quindi in teoria Dovrei aver tolto tutto Credo Spero Vediamo un po' Ah no Aspettate c'è il cappellino Ok Credo di aver levato tutto Sì ok Ho levato tutto È veramente una skin orribile Mi dispiace Cioè è proprio una roba Boh Vabbè Vediamo Vedremo Insomma Dobbiamo vedere Se funziona Questa roba Se veramente È bannabile Perché raga Io da quello che ho capito Vi bannano Su Roblox Ok Sono entrato in un server Veramente a casissimo Su Brockhaven E abbiamo già sta skin Veramente allucinante Ma la state vedendo Ok Quindi andiamo a schiacciare play Ovviamente ci rimette il nostro avatar E diciamo che ci sta Cioè nel senso Non dobbiamo utilizzarla subito Perché prima di mostrarvi Insomma Questa roba qua Ci divertiamo un po' No Dobbiamo spaventare un po' i giocatori Dobbiamo provare delle hack Comunque se andiamo su homes E andiamo qua Prendiamone una caso Raga Veramente una caso vuota E vado a mettere Una delle mie case preferite Premium Che dovrebbe essere Questa qua Ma non la trovo mai No No Eccola qua Questa qua è la mia casa preferita Premium Per chi magari si stesse chiedendo Ma Fede qual è la tua casa preferita Questa è la mia casa preferita Perché per me è bellissima E' veramente bella 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 Come piace a me Cioè se avessi una casa Anche mia Proprio mia Eccola vorrei così E raga Vi faccio vedere una cosa Prima di andare No A resettare il nostro avatar qua E mettere quella roba Orripilante E vedere se ci bannano O meno Dobbiamo andare A cercare una scrivania E se vi state chiedendo Ma perché vuoi Cercare una scrivania Raga Mi serve Principalmente Aspettate questa Sì eccola qua Mi serve principalmente Perché Si può fare Un bug Un glitch Allora prima di tutto Dovete mettervi Con una scrivania Con un computer Non un tavolo Non una sedia Una scrivania Con un computer Poi dopo Dovete cliccare su E Quindi usa computer E quando fate Questa animazione Stranissima Raga Dobbiamo praticamente Cliccare sulla casa E cancellarla Vi dirà Attenzione Non avrei più questa casa Voi cliccate su Conferma E come potete vedere Farete questa animazione Super strana Momentaneamente Ma che tra poco Diventerà paurosa Ok Per adesso è strana Perché col mio avatar Non si capisce Sembra che ho un buono Lo so Strana Adesso però Facciamo una cosa Ovvero Andiamo qua E resettiamo Il nostro avatar E in teoria Ecco qua Raga Guardate che paura Vabbè adesso purtroppo Non si vede molto Perché non c'è luce Ma proviamo a metterci qua E guardate Guardate un po' Veramente orribile Però fate questa animazione Che sembra Che state rincorrendo La gente Quindi questa roba Dovrebbe funzionare Per spaventare la gente Adesso è arrivato Il momento della verità E dobbiamo andare a vedere Se ci bannano o meno Io sapevo che Se girate per la mappa Con questa skin Dopo un po' Dovrebbero bannarvi O comunque Fare cose strane Vediamo un po' Ma dove sta la gente? Allora proviamo Ok così andiamo più veloci Ok stiamo camminando Da un po' Tra l'altro si è fatto giorno E nemmeno fa più Così tanto paura Ma raga Non mi pare Che ci stiano bannando Cioè nel senso Io sono qui da un bel po' Ma non mi sembra Cioè non mi è arrivato Nessun avviso No che ci stanno bannando Quindi secondo me Questa cosa non funziona Mi hanno trollato Oh magari Magari Sapete cosa mi è venuto in mente Ma c'è questa che ci sta rincorrendo? Raga Cosa sta facendo? Oh mio dio Ma cosa sta facendo? La gente su Brockhaven Sta male Sta veramente male Allora Eh vabbè Vediamo che cosa Ok c'è gente qua Dovremmo spaventare qualcuno Comunque questa roba non funziona Non credo ci bannino In nessun modo Ok così stiamo accarezzando La testa del bambino Il che è molto spaventoso Proviamo a scrivere qualcosa Ho appena scritto Che mi mangio il bambino Questa skin è creepy È tutto molto creepy Cioè ma state vedendo? Oh mio dio raga Ma che cavolo è sta skin? Com'è possibile che è legale questa roba? È veramente orribile Ok c'è scritto per favore aiutaci Ci ha preso la pistola E mi sta puntando la pistola Cioè sto facendo piangere un bambino raga Ma state vedendo? Cioè questa skin Sta facendo piangere dei bambini È veramente assurda Cioè guardate come scappano Vabbè raga Direi di concludere qua questo video Purtroppo non ha funzionato Cioè nel senso non ci hanno bannato Magari vi bannavano prima Se utilizzavate la skin Perché se non mi ricordo male Ho visto dei video Dove era molto più alta Quindi magari non Siccome non andava bene così alta Vi ricordate come Billy Quando era stato bannato Ecco E poi l'hanno rimesso Aggiustato Quindi magari non andava bene L'hanno rimessa aggiustata la skin E ora funziona Quindi ho buttato 175 robux Per niente raga Per niente Vabbè Direi di concludere qua questo video Come al solito Se vi è piaciuto Se volete più video di questo genere Fatevelo sapere sotto nei commenti Come al solito Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo in un altro video Ciao Ciao